A breve si conoscerà il verdetto sull'ultimo round giocato ieri in tribunale relativo alla vicenda delle maxibollette del progetto case. A decidere sarà il giudice Daria Lombardi e la decisione arriverà a brevissimo giro. Lo scontro è tra il comune dell'Aquila e gli assegnatari delle case sulle modalità di pagamento delle utenze. Il comune è rappresentato dall'avvocato dell'ufficio legale dell'ente Andrea Liberatore mentre ricorrenti del progetto case, circa 600, dall'avvocato Fausto Corti. In pratica si chiede l'annullamento della delibera comunale approvata il 4 luglio 2014 per giustificare le cartelle relative ai consumi di gas ed elettricità nel periodo che va ad aprile 2013 a giugno 2014. Nel Mirino ci sono i metodi di calcolo delle cartelle che furono bocciati, vale la pena ricordarlo, anche dal difensore civico Nicola Sisti. Le somme furono addebitate agli assegnatari in base non ai reali consumi ma sulla base di coefficienti che prendevano in considerazione i giorni di occupazione della casa, la superficie totale della casa e il coefficiente definito storico, vale a dire derivante da quanto già emesso nella precedente bolletta e questo, pur essendo stati già installati nelle case, a parecchi di misurazione che avrebbero consentito invece una corretta lettura dei consumi degli assegnatari. Nei bollettini arrivati agli Aquilani, inoltre, non c'era neanche il dettaglio tra consumi di gas e riscaldamento e non erano specificati neanche i costi relativi all'utenza di condominio che non possono essere assegnati in modo forfettario. Insomma, consumi imprecisi che le famiglie, alcune anche con problemi economici, non hanno voluto accettare, incaricando il legale Fausto Corti di ricorrere. Tra l'altro, l'avvocato ha anche spiegato che nelle piastre del progetto case non tutti i contatori erano funzionanti e il Comune lo sapeva bene. Una sentenza molto importante, questa che si attende anche in città con una certa curiosità. Certo è che se il Comune dovesse perdere altri guai per centinaia di migliaia di euro.